Ci sarebbe stata una forte tensione tra Kate e regina Camilla, emersa durante solenne incoronazione del re Carlo III che si è svolta 6 maggio nell'Abbazia Westminster.Tom Bauer, controverso autore tabloid di biografie, lo ha detto durante il programma Dan Wutton Tonight trasmesso su GB News, secondo quale prova è mancanza riverenza della principessa del Galles alla regina mentre lasciava L'Abbazia. Se guardi il filmato dell'incoronazione, mentre il re e la regina lasciano i loro troni e camminano verso l'uscita dell'Abbazia di Westminster, tutti si inchina al loro sovrano ma nessuno muove un muscolo mentre Camilla passa.